ciao a tutti iniziamo con questo nuovo livello 60 secondi iniziamo questo livello qua andiamo sulla catapulta giriamo no legge meglio la tacchetta giriamo saltiamo giù e ora saltiamo un po solo gombo e fino al livello ho preso quante monete 36 mario time aspettate che monti una cosa che rifacciamo rifacciamo è caduto l'albero no non provateci vai 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 faccio la tacchetta per favore dammi un po di monetine un po un po grazie mille 1 punto di domanda che prima non c'era perché era caduto ah più 15 monete perciò sfruttiamolo no saltiamo su bongo su bongo il giugno che è pure caduto stella e fino al livello quante monete ho preso dai 47 perciò 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 no per perciò 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 perciò